Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione! Oggi vediamo i maltagliati. Ma cosa sono i maltagliati? I maltagliati sono dei biscottini da taglio. Abbiamo visto i biscotti di frolla montata, quindi al sac à poche, o da sacchetto si chiamano. Biscottini da stampo, biscottini col coppapasta, biscottino da taglio al coltello. Pariamo un po' il bordo, facciamo delle fettine. Uno. Questi sono biscotti che veramente nella pasticceria vanno tantissimo. Ecco qua, perfetto. Guardate che belli! I nostri maltagliati, quindi la versione chiara alla vaniglia con frutta secca, aromatizzatela come volete alla cannella. La versione scura al cacao, frutta secca. Fatelo anche cacao e nocciola, cacao e caffè. Quindi i nostri maltagliati sono terminati. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!